ma che è? ma che è? aiuto! ma che è? terzi cristalli che vanno a mille una bufera mamma mia come arriva mamma mia come arriva spettacolo fa strano ma a sto giro mi sa che le previsioni metodo ci hanno proprio azzeccato scende da neve e si sta quasi attaccando meraviglioso sta venendo giù come non vedevo da anni manco fossimo a 2000 metri bellissimo bellissimo ora vi faccio vedere grazie a tutti ma che è? ma che è? ma che è? aiuto ma che è? il tuo traffico come se è un po' lamentato la strada è sporca ok? i cristalli che vanno a mille la bufera è fatta la bufera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti